Buongiorno, vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo. Arriete, momento culmine per una decisione importante che dovrete prendere. Ora è il momento di agire. Toro, le occasioni che vi si presenteranno oggi potrebbero non ripetersi tanto facilmente. Gemelli, praticità e metodicità. Accetta gli inviti che ti faranno e non rinunciare ai tuoi momenti. Cancro, per riuscire in ciò che ti sta a cuore dovrai essere costante e deciso. Per molti sta per iniziare un buon periodo per i soldi e per l'amore. Leone, non c'è nulla di complicato nella soluzione che avete individuato per risolvere un problema che vi sta a cuore. C'è solo da impegnarsi. Vergine, il nervosismo che avete avvertito nei giorni trascorsi potrebbe farsi ancora vivo. Siate più elastici e meno intransigenti con gli altri. Bilancia, oggi prendete del tempo per voi. Cercate di rilassarvi e non soffermatevi su quanto patito o subito dagli altri. Scorpione, oggi non abbiate timore di osare in amore. Ricordate che chi prima attacca ha buone probabilità di vincere. Oggi vi sentirete particolarmente romantiche. Sagittario, abbandonatevi all'amore. Oggi potrebbe essere un giorno positivo, anche se non riuscirete a fare a meno della vostra gelosia abituale. Capricorno, a causa di un incontro inaspettato, qualcosa sta per cambiare per te. Ti conviene mantenere la calma e ponderare bene ciò che stai per fare. Acquario, abbiate fiducia nella vita e in quello che vi offre. Mettete solo ordine e date priorità alle cose importanti o che vi sembrano tali. Pesci, intuito, ispirazioni e idee estrose non ti mancheranno. Sarai vincente se oserai. Questo è tutto, a domani con il prossimo appuntamento dell'Oroscopo.